Degustando la Toscana è un progetto portato avanti da Cia Toscana insieme alla regione toscana per promuovere i prodotti tipici, le DOCP e i lavori che si portano avanti nei territori toscani. Ogni provincia ha organizzato almeno due eventi, Cia Rezzo ha già organizzato una degustazione di mieli e stasera propone una degustazione di olio. Si degusteranno oli sia evi, quindi oli coltivati e prodotti secondo la nostra tradizione aretina e oli invece che troviamo a bassi prezzi sui supermercati delle grandi distribuzioni e li compareremo sia per cogliere le differenze dal punto di vista del sapore ma anche per analizzare le differenze dal punto di vista organolettico. Questo per da una parte valorizzare il lavoro dei nostri imprenditori e dall'altra per rendere il consumatore sempre più consapevole delle scelte che ha quando si trova davanti a uno scaffale con degli oli che appunto trova in commercio.